In questa vacanza sono riuscito a imparare nuove cose della vela, ma anche a migliorare ciò che già conoscevo perché io faccio vela in più. Sono riuscito anche a conoscere nuovi ragazzini, nuovi amici, anche dalla mia città, da Cagliari. La Lega Navale con Gioca Mondo struttura dei corsi per quanto riguarda la vela e la conoscenza del mare. Sono accompagnati per tutto il corso dai struttori federali che riescono a spiegare loro l'importanza della conoscenza del mare e dei venti. Durante il soggiorno i ragazzi si divertiranno con il sport più alla moda del momento, canoa e vela. In completa sicurezza, insieme agli struttori del circolo nautico, impareranno a conoscere il mare.